salva tutti e benvenuti qui su l'herstep oggi voglio mostrarvi un'alternativa di audacity ma per mobile sia per android e sia per ios in realtà c'è anche per windows ma andremo a vedere dopo questa cosa qualcuno si starà chiedendo o forse solo io ma perché dovrei utilizzare una cosa del genere sul mio dispositivo beh la risposta è semplice perché se ad esempio non sono davanti al computer o se magari non ho un computer io posso tranquillamente prendere questo mio bellissimo padellone e andare a cazzeggiare su instagram no scherzo ma invece di fare questo io posso andare a modificare il mio file audio posso fare le cose più classiche come ad esempio tagliare accorciare appunto andare che ne so a fare dei fed in e fed out aggiungere un riverbero aggiungere una compressione aggiungere un'equalizzazione tante di queste cose posso anche addirittura dico bellissima questa canzone vorrei cantarci sopra ma non posso perché non riesco a trovare la base con questa applicazione vi permette di andare a rimuovere la voce e quindi potete cantarci sopra anche perché vi permette proprio di registrare bellissimo ovviamente vi faccio vedere anche un'altra applicazione sono due realtà perché la prima è per fare delle modifiche sul singolo file audio la seconda è un'applicazione multitracha quindi vi permette di avere appunto delle tracce più tracce dove potete lavorare in parallelo cioè potete andare appunto a mixare più file audio basta in realtà ne avevo scelte 6 poi mi sono detto no 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 facciamo troppa confusione così quindi ho scelto solo queste due e basta poi magari in un altro video vi faccio vedere un'altra alternativa fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe proprio una serie di video sul sulle app per mobile di questo tipo va bene mi raccomando mi piacerebbe ricevere un vostro feedback a riguardo io ho già parlato abbastanza andremo a vedere subito la prima applicazione così vi mostro appunto come si presenta dai iniziamo subito ed eccoci qui all'interno del sito il programma la prima applicazione che vi consiglio si chiama web ad ancora non ve l'avevo detto eccolo qua questi sono gli sviluppatori l'azienda chiamata nch che conosco molto bene perché prima utilizzavo proprio questo programma qui è stato il mio primo programma per la registrazione audio devo vedere qua quanti software abbiamo vedete ce ne sono di tutti i tipi quello che ovviamente dobbiamo utilizzare noi è questo qua ovviamente vi lascio i link diretti cioè mi lascio il link per scaricare la versione per android del link per scaricare quello appunto per iphone ma volendo questo il sito principale dove qui poi scendendo in basso potete trovare appunto tutte le diverse versioni eccoli qua iphone android chromebook eccetera eccetera detto ciò andiamo a vedere quella per android vi faccio vedere eccolo qua come si presenta andiamo a vedere qui alcuni screenshot vedete un po spartana come interfaccia un po vecchiotta ma fa quel che deve fare l'importante è quello mamma mia quanti download qui poi ovviamente quella per iphone ecco qua questi sono appunto le varie immagini per quanto riguarda l'iphone vedete che non cambia più di tanto quello che fa vabbè l'abbiamo detto prima vedete va a riparare l'audio va appunto a togliere il rumore va a togliere i click che va a fare delle analisi spettrali supporta più di 50 formati audio va a fare le nuove classiche operazioni come normalize quindi a normalizzare va ad equalizzare e va a effettuare anche operazione di batch quindi su più file possiamo fare più cose ovviamente questa è la versione per windows sulla versione mobile ci sono alcuni limiti c'è la versione ovviamente pro che vi permette di sbloccare alcune cose dopo vi faccio vedere all'interno dell'applicazione su android vi faccio vedere i costi che ci sono ma ripeto è completamente gratuita ma se volete ovviamente avere qualcosa in più dovete appunto pagare qualcosina vado subito registrare lo schermo così andiamo a vedere subito come si presenta l'applicazione qui dentro e allora eccoci qui vado subito registrare lo schermo queste sono le applicazioni che avevo scaricato prima ne ho provate tante e alla fine appunto ho deciso di farvi vedere proprio web pad c'è anche mix pad che dopo andiamo a vedere perché appunto più adatta per appunto il multi traccia andiamo ad aprire proprio web pad vedete veloce subito notiamo già qui sotto che ci sono questi banner pubblicitari ok perché ovviamente questa è la versione free e in qualche modo ci devono guadagnare però andando qui vedete che come completamente italiano anche se io preferisco quello in inglese perché alcune cose sono tradotte proprio forzatamente se andiamo su inizio che poi sarebbe home andiamo proprio qua alla fine vi faccio vedere che c'è il tasto acquista eccolo qua potete rimuovere gli annunci pure potete magari che ne so fare un abbonamento completo al mese oppure direttamente forse questa è una tantum non lo so però potete sbloccare tutte le funzionalità a soli 10 e 99 11 euro detto ciò quello che adesso possiamo fare in realtà possiamo fare due cose da qui c'è la cartella dove possiamo fare apri apri che cosa possiamo aprire i file o a possiamo aprire i file oppure anche una libreria perché questa applicazione ha pure una libreria tutta sua possiamo aprire anche fare recenti o inoltre possiamo anche andare subito registrare la nostra voce perché vedete che qui sotto in basso c'è praticamente il tasto per registrare il tasto rosso e se clicco qua che è successo acquista tutta una data per forse più tardi ok adesso sto registrando come potete vedere già si vede la forma d'onda adesso fermo stop po tutto vede che qui ci sono quei tasti classici lei pausa porto all'inizio porto alla fine e appunto ora io con dei semplici tacce così cliccando sulla forma d'onda io dico con questo locatore rosso posso anche spostarlo se lo tengo premuto in quale punto voglio riprodurre appunto quello che registrato magari da qui faccio play adesso sto registrando e poi con faccio pausa poi io vi consiglio qui in alto vedete abbiamo praticamente sempre la forma d'onda però più piccola perché possiamo stringere con questi marcatori all'inizio e poi con quello alla fine e possiamo dire il punto dove vogliamo vedere la forma d'onda e con quello centrale io posso spostarlo tutto e ovviamente se invece metto qui tengo premuto trascino praticamente il dito tenendo premuto posso fare questa selezione facendo questa selezione io quando poi vado ad applicare gli effetti gli effetti vanno appunto applicate soltanto qui come appunto su audacity detto ciò qui in alto vedete che c'è 0 senza titolo slash ma che dico slash trattino basso 1 questa è la prima scheda ovviamente possiamo creare nuove schede dove possiamo appunto inserire nuovi file audio oppure nuove registrazioni e da qui con la x si chiude quindi possiamo avere più sessioni e inoltre ovviamente niente basta tutto qui è detto ciò andiamo a vedere alcune cose interessanti vabbè qui abbiamo poi sporta possiamo cambiare il tipo di forma d'onda ha un'altra cosa vedete che se io faccio un pinch in un pinch out credo si dica così così io posso invece ingrandire appunto lo zoom e oppure se lo faccio in questo modo io vado ad ingrandire la forma d'onda ovviamente questo non influenzerà sul volume ma soltanto sulla visuale qua mi raccomando sempre su inizio oppure in inglese home abbiamo praticamente questi che ci salvano la vita in particolare a nulla questa freccetta qui arancione che sta per il tasto ando in inglese ed è fantastica perché se io sbaglio magari che ne so vado eliminare elimina vedete sul tab modifica abbiamo tutti tutte queste schede che se ci clicco mi fa vedere tutte le operazioni in base a quello che poi è stato messo in categoria diciamo ora se vuoi tornare indietro vado su inizio cerco la voce a nulla e torno indietro ancora più semplice tengo premuto qui dove c'è la forma d'onda e avrò questo menu questo menu contestual dove c'è nulla ripeti copia cioè taglia copia posso eliminare la parte che ho selezionato posso ripetere la parte che ho selezionato posso inserire un silenzio posso inserire anche un file proprio qui dove è selezionato posso aggiungere più effetti che ne so in questa parte vedete che già velocemente da qui senza andare a scorrere tutte le varie schede io da qui già posso farlo con questo menu contestuale posso aggiungere un riverbero proviamo con un riverbero vedete qui già abbiamo queste impostazioni che devo dire che sono abbastanza avanzate non si diciamo limitano soltanto ad alcuni parametri ma ci sono davvero tante cose ci sono anche i preset da qui se non volete smanettare questi questi controlli proviamo bagno faccio play umido sarebbe appunto wet asciutto sarebbe dry e posso da qui aumentare vado indietro e già abbiamo visto un po gli effetti come appunto possiamo applicarli poi ovviamente qui ripeto le solite cose che potete smanettare potete andare a vedere un po volume posso amplificarlo posso normalizzarlo in base a che cosa in base allo 0 db nel picco posso salvare i preset è completissima secondo me poi c'è il ritaglio per ritagliare che cosa gli dico ritaglio normale quindi faccio così e mi mantiene solo la parte che selezionato tutto il resto viene appunto eliminato ora io voglio tornare indietro tengo premuto qua annulla poi su modifica abbiamo dividi bellissimo posso dividere automaticamente posso dividere dove ci sono i silenzi immaginate di avere tanti silenzi e li posso dividere o li posso anche eliminare i silenzi e avere un file bello senza pause o ancora posso dividere in parti uguali n posso indicare quante parti voglio di questo file e la cosa bella che mi li va a mettere separatamente tutti i file nella cartella che poi decido io molto interessante ce ne sono davvero tante funzioni oppure una cosa bella pulizia questo andiamo a vedere adesso con un file audio perché ho preparato un file con del rumore in realtà ho anche esagerato a mettere tanto rumore rimozione del rumore correzioni offset dc sottrazione automatica dello spettro scambio dei canali left right possiamo applicare un passato andiamo a vedere l'anteprima ok adesso storie di strano vedete la cosa bella che comunque mi fa ascoltare anche in tempo reale le modifiche che faccio con i parametri ripeti loop quindi posso fare così tipo vediamo ripeti loop ripetiamolo per tre volte ripeti vediamo ascoltiamo torri 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 di strano fantastico torino indietro mixa con file praticamente gli dico prendi un altro file prendiamo questo ok boi incolla mix vediamo che succede se ho incollato appunto un altro file annulla e torniamo con prima posso addirittura anche censurare posso mettere dei bip quindi vediamo sei un figlio di sei un pezzo di bellissimo questo l'autorizzato tantissimo poi c'è la compressione che andiamo a vedere qui c'è quello semplice poi c'è anche quello la grafica quindi è fantastico vedete cosa posso fare bellissimo posso intervenire sulla ratio oppure posso andare intervenire sulla threshold sul gate ci vedete quanto è proprio avanzato quando è appunto abbastanza completo ci sono anche i preset vedete compressione pesante vabbè un limiter moderato diamo programma una compressione veloce ok adesso sto registrando come potete vedere di essere applica vedete già è più compatto il file audio una compressione veloce che funziona ovviamente poi si deve sistemare meglio l'equalizzazione con questo grafico un po le alte posso dare un po di un po di basse strano come potete vedere che è abbastanza distorto come cosa però solo per farvi capire poi c'è l'equalizzazione grafica parametrica visiva applica vediamo vedete già sono abbastanza esagerato con la compressione con tutti gli effetti perché già si capisce dalla forma d'onda infine abbiamo la dissolvenza l'inviluppo gli effetti e gli effetti ne abbiamo tantissimi vediamo abbiamo quelli diciamo di base che sono poi effetti diciamo che vanno a modificare la voce vediamo demone proviamo porto registrando come potete vedere di insieme pommami eroico dai porto registrando come potete vedere di insieme cyborg porto registrando come potete vedere di insieme poi registra poi abbiamo quelli popolare con i classici effetti come modifica il tono in semitone vediamo in cambio la velocità e anche l'intonazione vediamo registrando come potete vedere di insieme uno zombie sono diventato e poi abbiamo controllo automatico del game proprio automatico quindi fa una cosa auto ma guarda abbassato perché magari era troppo alto ha detto ma che stai facendo così alto e possiamo fare inverti penso sarà un universo inverti fase vediamo oh mamma mia ma quanti effetti raga vedete che tutto completamente gratuito poi pro pensavo pro io che era praticamente solo per la versione pro ma invece pro è come effetti professionali inteso riduzione del rumore che andiamo a vedere tra poco modifica della voce suona su round quando faccio catena effetti eh sì vedete catena effetti non lo posso usare catena effetti è bello perché potete avere una un po come su audacity no che c'è la si chiamano le macro dove potete appunto con un solo tasto applicare tanti effetti appunto con in un colpo solo ok che ne so avete sempre la solita catena di effetti che qualizzazione compressione riverbero io direttamente clicco su catena effetti me li applica tutte e tre contemporaneamente purtroppo per fare questa cosa dovete pagare perché qua infatti sblocca tutti gli effetti anche se io prima l'avevo fatto non so come mai forse c'è un limite non so provate anche voi riduzione del rumore ancora una volta ve lo faccio vedere perché altrimenti lo dimentico e poi c'è riduci voce voci dove appunto possiamo qua rimuovere la voce in una in una canzone e questo lo proveremo pure però mi fermo qui perché altrimenti a finire che faccio un video molto lungo qua vedete che poi posso cliccare sulla x quindi posso salvare anche il progetto o comunque se vado su inizio su home posso fare salva e mi dice come se vuoi fare salva cosa il progetto salva come sono via inviare il file a qualche amico lo posso direttamente condividere su whatsapp senza prima salvarlo elimino questo progetto non salvare e andiamo a fare adesso apri apri file andiamo a prendere qui la voce col rumore perché adesso vi faccio vedere proprio questa però non va a togliere il rumore proprio del tutto anche perché qui ho esagerato tantissimo vabbè io seleziono questa parte anche proviamo effetti dove si trovava strumenti mi pare si quadri mozione del rumore bellissimo perché qui abbiamo davvero tante opzioni registrazione vecchia o di bassa qualità brevi clic o bruschi cambiamenti nel segnale audio oppure brevi pop pop queste cose qua vediamo questo l'ultimo ascoltiamo una elaborazione sento più rumori di prima in realtà anche il cane poi che va e ancora peggio comunque proviamo questa ma qua ci sta di più aspettiamo ok ce l'abbiamo fatta vai vediamo niente proviamo questo l'avevo provato e funzionava strano vediamo applica magari cambia qualcosa quando faccio applica sì ok vedete praticamente sono uno scemo ho aspettato tutto sto tempo perché l'anteprima mi ha praticamente fregato pensavo che fosse così con appunto la riduzione del rumore invece dovevo fare applica perché forse non si è aggiornata l'anteprima devo dire che c'era molto molto rumore io ho suggerato però nei casi più diciamo normali non c'è tutto questo rumore di fondo quindi già fa un ottimo lavoro questa cosa qua ok proviamo ad essere ridurre facciamo quindi praticamente inizio apri andiamo ad aprire il file dove c'è anche la voce quindi prendiamo qual è che qui abbiamo vedete abbiamo qui la voce andiamo su strumenti e facciamo riduci voci facciamo ma questo facendo anteprima provate anche c'è questa freccettina no che adesso non posso cliccare però vi aggiorna l'anteprima ok perché alcune volte quando io cambio qua i vari parametri magari l'anteprima non si aggiorna quindi fatelo cioè dovevo fare forse questo prima quando ho fatto la riduzione del rumore proviamo dai wow qua c'era la voce vedete che anche comunque il kick non c'è più perché ovviamente lui elimina tutta la parte centrale tutta la parte in mono però possiamo anche selezionare esegui solo sottrazione canale semplice lr left right vediamo la sottrazione del canale funziona per stereo con buona separazione spettrale mi raccomando spaziale mi raccomando di utilizzare appunto file di stereo faccio una prova non sono più in forma come prima non mi viene infatti nessuna rima sono un disastro prima facevo sempre queste cose e poi ci sono i preset che potete mantenere i bassi vediamo e poi ovviamente possiamo andare da fare su tutta la traccia quindi andando a fare tengo premuto seleziona seleziona tutto e applico appunto la riduzione del vedete che quante prima ci sta di più fatto ok adesso lo applicherò questa area questa opzione riduci voci su tutta ovviamente la parte che ho selezionato su tutta la mia canzone e poi faccio applica poi vado su un modifico vado su inizio andare a fare esporta è già subito o la mia la mia canzone già senza voci basta devo vedere subito l'altra applicazione se vuoi salvare no e vado ad aprire mix pad anche questa è la versione free ma c'è anche ovviamente la versione pro ok eccoci qua qua vedete ci fa il tutorial se voglio utilizzare cioè do il consenso di utilizzare i miei le mie cartelle ecco qua come si presenta abbiamo appunto 1 1 2 3 4 5 6 tracce possiamo aggiungere altre tracce ovviamente se aggiungiamo altre tracce cosa succede succede che dobbiamo pagare vedete che poi si è quasi simile a quella di prima a una cosa questa purtroppo non c'è in italiano è soltanto in inglese come potete vedere però vabbè dai si capisce intuitiva allora perché vi dicevo utilizzate l'altra anche in versione inglese così con questa non vi confondete e prendete fidu prendete diciamo confidenza con questi termini che poi vengono utilizzati sempre nella produzione musicale e sport amix e potete anche caricare la vostra traccia su un cloud su ad esempio draw box google drive potete caricare potete registrare questo qua sono le tracce quelle che vedete qui dove c'è questo pallino che gli dico sì sì certo dal consenso che abbiamo adesso registreremo sulla seconda traccia metto sempre vado a premere il tasto di registrazione che si trova in basso a sinistra e adesso faccio pre roll ok adesso dovrei registrare si inizia a vedere la forma d'onda e adesso posso fare il tasto stop da largo così per zoomare e poi mi sposto da questa parte scrollo così andiamo a fare il replay comunque sto registrando vedete che inizia si inizia a vedere la forma perfetto e posso selezionare ovviamente vedete sempre come prima e da qui posso poi applicare effetti posso fare editing delle solite cose taglia coppia trim taglia la regione mette il silenzio posso fare playback questa posso mettere la griglia bellissimo così posso mettere una timeline quindi con le battute posso mettere il loop il metronomo posso inserire poi posso inserire nuove tracce guardate inserisco una nuova traccia ecco qua vedete già mi dice che non ne posso aggiungere più quindi il massimo credo siano sia tracce anche qua ci sono i vari prezzi ok potete sbloccare per avere tracce illimitate a soli 4 99 anche qui facciamo 5 e poi ci sono diversi prezzi per togliere sulla pubblicità o per sbloccare gli effetti perché infatti il compressore qui non lo possiamo autorizzare da quello che ho visto prima ora vediamo le tracce potete spanderle come si fa si clicca su show controls ok si clicca qui e vedete che adesso c'è anche vedete la mia voce perché la traccia è armata adesso non è più armata quindi adesso se faccio il tasto record in basso a sinistra non mi registra da nessuna parte poi le tracce le posso rinominare che si chiamano un title track se clicco anche sulla freccetta vado a ridurre la traccia fantastiche se seleziona una traccia si capisce perché il nome più evidenziato la posso poi rinominare ad esempio qua la chiamo traccia anzi no questa dove c'è la voce questa voce ok e questa appunto è la voce qui a po questo slide per il volume mettiamolo al massimo ma questo sarà il pan poi la cosa bella posso fare anche le automazioni quindi clicco qua clip automation e mostrami il volume così facciamo qualcosa e poi chiudo qua la la visualizzazione delle tracce più da vicino così vado a cliccare su un punto perché c'è l'automazione e poi su un altro punto dove posso abbassare il volume se vado a capire un po ok o posso alzarlo vediamo vedete che inizia vabbè si è troppo veloce così comunque ora lo proviamo con una base e poi gli effetti che abbiamo visto prima vedete che possiamo amplificare possiamo mettere il chorus se faccio il compressore ecco il compressore non ve la fa mettere perché purtroppo dovete pagare e la distorsione le eco questi sono gratuiti ecco qua già siamo direttamente sul praticamente dove possiamo applicare gli effetti sulla catena degli effetti ma del rimuovere un altro misto effetto perché vi faccio vedere un po come ho fatto a ok se faccio così al solito vado ad allargare sia le tracce anche la visuale torno dove c'è la traccia e dove c'è fx su ogni singola traccia vedete clicco qui praticamente posso applicare gli effetti ma la cosa bella è che a differenza di audacity che tutto distruttivo quindi si applica un effetto non posso più tenere indietro qui invece tutto in tempo reale aggiungo che ne so mettiamo il riverbero ci clicco e faccio in basso a sinistra ad effect lo vado a sistemare gli metto che ne so si metto di nuovo il bagno metto magari un po più alto così e poi faccio ok ora ascoltiamo ora se vado di non calcare su fx lo posso disabilitare invece quando lo facevamo prima con l'altra applicazione è tutto distruttivo cioè nel senso ma io qua non mi vedo più ok un po si vede così e dicevo che comunque adesso io posso disabilitare gli effetti che ho messo invece prima quando applico gli effetti non li posso più eliminare ok dico non mi piace più il riverbero lo clicco un attimo lo voglio disabilitare ok chiudo qua vediamo zoomiamo perché forse non si vede faccio load e prendo la parte strumentale la porta posso selezionare tutte e due poi faccio ok me le va a selezionare guardate che bello posso ascoltare metti in solo solo la voce tolgo il tasto s oppure è solo per la base sulla strumentale faccio tipo una clip automation volume facciamo show volume da qui chiudo e posso cliccare qua e cliccare qua e fare tipo una cosa del genere adesso il volume si abbassa e poi si rialza e rialzo di nuovo fantastico e poi registro se voglio registrare qua magari cambio il volume lo metto proprio al minimo così metto la mia voce registro ok sto registrando la mia voce in realtà non vi consiglio di farlo così perché registra anche la base quindi io vi consiglio di utilizzare le cuffie se dovete registrare credo di avervi fatto vedere tutto poi le altre cose ovviamente ve le lascio un po smanettare a voi ok avete visto quanto sono potenti queste due applicazioni ovviamente una per andare a modificare più nei dettagli un singolo file l'altra invece se dobbiamo creare dei mix è perfetta perché appunto possiamo utilizzare le varie tracce e possiamo appunto andare a mixare con magari mettendo degli effetti possiamo registrare su una base perché anche su quella la prima è possibile registrare sopra una base però non non avete la possibilità di andare a separare appunto magari voglio applicare l'effetto solo sulla voce voglio magari abbassare la base non posso farlo quindi se dovete registrare su una base vi consiglio mix pad perché è multi traccia ed è più comodo gestire appunto i file audio in modo separato avete visto poi la cosa fantastica di mix pad che vi permette di andare ad applicare gli effetti in tempo reale quindi non vengono applicati in modo distruttivo quindi potete tornare indietro e andare a modificare successivamente magari un riverbero che avete messo troppo alto ovviamente voglio sapere anche lavoro ne ho ovviamente voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti fatemi sapere se magari non conoscevate questa applicazione anzi queste due applicazioni o se magari dici no guardi utilizzo questa perché funziona decisamente meglio fatemi sapere la vostra sono curioso quindi noi ci sentiamo qui sotto vi auguro una buona continuazione ma soprattutto una buona musica ciao